E vorrevo dare, prima di dare la parola a Franco Russo, che è collegato anche lui online, dare la parola a Paola. Sì, ti senti? Ciao, ciao, grazie. Grazie a tutti e soprattutto a questa assemblea così interessante, no? Di ampio respiro, di ampia costruzione, cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno, perché effettivamente le cose stanno in qualche misura precipitando. Qualche osservatore dirà che era tutto prevedibile, che si stava già andando in quella direzione, ma per i più la cosa è precipitata negli ultimi mesi. E per quanto sia vero, che mi torna sempre in mente questa frase, che quando il mondo vecchio sta morendo e l'uovo non si palesa, si presentano i mostri. Io credo che sia estremamente vero, perché i motivi che anche analizzava Maurizio, per cui questo imperialismo tende di nuovo ad una divisione dei blocchi, è proprio insito nella necessità della sua sopravvivenza, che non trova più nelle pertinenze ideali, che pure portava avanti, no? Quello di portare la felicità economica a tutti, la democrazia, e di esportare la democrazia, non sono più sufficienti, perché hanno svelato i loro tranelli e c'è la necessità della compattazione identitaria degli uni contro gli altri. Ma è una cosa che assolutamente non ci possiamo permettere da nessun punto di vista. A me torna in mente sempre la questione ambientale, che sembra andata in secondo piano, ma invece è un'emergenza che non possiamo dimenticare, perché ci dobbiamo rendere conto che l'assoluta fragilità delle condizioni che ci vedono abitanti di questo pianeta vengono continuamente messe a rischio e veramente stiamo rischiando di non poter essere più ospiti di questo pianeta nel giro di poco tempo e sicuramente sempre meno saranno quelli che possono essere ospitati, perché avremo sempre più mancanza di materie prime, di cibo, perché avremo meno possibilità di coltivare terreni, più aridità, terre sommerse, meno acqua per tutti. E forse è anche questa, diciamo, l'esigenza degli imperialismi di schierarsi, perché è proprio una battaglia per la sopravvivenza di pochi rispetto ai tanti, perché sicuramente questo non è un mondo per tutti. Quello che, tornando a discorsi più anche alla mia portata, che sono lì in quelle stanze tossiche, dove ci troviamo a lavorare come parlamentari di un Parlamento che è assolutamente stato privato di tutte le sue valenze, in questa modifica costituzionale di fatto, che non è più solo il monocameralismo, ma è un'assoluta privazione di tutte le funzioni parlamentari che ci dava la Costituzione, noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che solo qualche anno fa sarebbero state assolutamente inaccettabili. Non parlo solo dell'aumento e della spesa militare da 25 a 38 miliardi, ma del taglio all'istruzione ulteriore dopo l'anno di pandemia, che equivale a diversi miliardi dopo una discesa che abbiamo avuto negli ultimi decenni, che però veniva, come dire, giustificata, anche se ingiustificabile, ma anche un taglio alla sanità, che viene portata avanti di un punto percentuale. E proprio per farvela piccola, piccola, come raccontavo a Stefano Galieni stamattina, io mi trovo veramente come andare a mettere i cerotti sui vari buchi in questi giorni in cui il Parlamento è anche in dismissione, perché già sta facendo le valigie, già si sta organizzando per la campagna elettorale. Io mi trovo a cercare di una soluzione per gli invalidi al cento per cento che hanno perso il reggio di cittadinanza. Ecco, rispetto ai milioni che vengono inviati come armi in Ucraina, alla crisi che ci prospettiamo ad affrontare col taglio del gas alla Russia, mi dicono che non ci sono le coperture per i disabili al cento per cento che hanno preso di reggio di cittadinanza da gennaio 40 euro al mese, 40 euro al mese. Sono sommersa da questi, chiamiamoli per quello che sono, delle grida di dolore di persone che mi sottopongono screenshot con gli scontrini e la farmacia, in cui mi mettono all'evidenza che riescono a pagare qualche medicina, ma non tutte. Ebbene, io sono ricorsa al MEP, ho parlato con il ministro Orlando, la risposta è che non ci sono le coperture. Noi ci troviamo di fronte a questo disastro, a questa scelta che va oltre qualunque prospettiva, perché noi abbiamo una prospettiva di inflazione enorme e di un paese che sta precipitando nella povertà generale e ci permettiamo, a differenza della Francia e della Germania, di inviare armi pesanti all'Ucraina, di valutare, forse neanche qui tutti saranno d'accordo, a rivalutare la questione del taglio, di portare le sanzioni alla Russia anche per quanto riguarda la fornitura del gas, cosa che Francia e Germania stanno rivalutando, perché chiaramente danneggia e impoverisce e rende più debole i paesi stessi che mettono in atto queste azioni e poi a riprova di cosa, non a un'inversione di tendenza a una rivisitazione del piano nazionale energia e clima, ma a prendere il gas di scisto dall'America, molto più costoso, che non coprirà chiaramente tutte le nostre esigenze e che è soltamente da un punto di vista ambientale un disastro, riprendiamo a usare a rivellare di nuovo i nostri territori per neanche un decimo del nostro fabbisogno e così i rigassificatori, insomma un ritorno al passato che non ci tutelerà da quello che sarà l'aumento dei prezzi e laddove poi EMI e altre società energetiche hanno un aumento degli extra profitti di 40 miliardi in pochi mesi. quindi veramente un paese che sta mettendo in evidenza un paese, un mondo nello specifico del nostro paese, tutte le proprie contraddizioni e ferite ecco da questo si può soltanto risalire, questo è il dato positivo cioè siamo arrivati talmente all'evidenza delle ferite, delle complessità che legano quelli che vengono tutelati da queste scelte rispetto alla maggioranza della popolazione che si può solo sperare di rendere evidente di creare una rete europea ma io mi auguro globale di altri movimenti per proporre un modello diverso non credo che ci sia dato molto più tempo per questo chiaramente noi rappresentiamo in questa esigenza i più mai più non sono in grado di leggere questa cosa perché appunto la manipolazione dell'informazione e la propaganda è fortissima e questo è il compito più arduo che abbiamo svelare, rendere evidente, rendere palese chi sono e cosa portano avanti questi governanti grazie grazie, grazie veramente grazie dell'appoggio, della rappresentanza politica istituzionale che ci date che speriamo di poter far crescere anche nel prossimo futuro